un virus che è iniziata tutto bene boh daniele si sta si sta guardando i cantoni animati no non riguarda quelle di violenza che si fa le pipi a letto e c'ha paura di quelle scene daniele ma c'è bisogno di alzare il volume così sceglie di violenza e sangue come fai gli incubi daniele ti fa la pipi a letto è vero e lamentati poi che ti fa la pipi a letto ma da bambino quelle cose violette con il sangue e poi si lamenta che ti fa la pipi a letto ma tu c'è bisogno di dire che ho tolto a letto quando il bambino si macchiava la pipi tutti i giorni andava a letto 10 minuti era già pisciato ma non passi per favore sto parlando ma sicuramente si farà la pipi a letto anche oggi e the boys ma secondo te e the boys vedrai fai schifo stai facendo per tiziana ha detto di mandarli alla sette pisciabia donna ma secondo te devi mandare fai il tuo